Partirei con un grande ringraziamento a nome veramente di tutta l'UISP, 35.000 volte grazie, perché 35.000 sono state le persone, cittadine e cittadini di ogni età che oggi hanno partecipato alla 38esima edizione di Vivi Città, la Corsa dei Diritti. Come sappiamo, una manifestazione che mette insieme agonismo, quindi competizione con la partecipazione veramente per tutte e per come nella migliore tradizione dello sport sociale della UISP. Ancora una volta abbiamo corso, abbiamo camminato quest'anno in 34 città, in centri urbani e non solo, per i diritti, dalla pace alla sostenibilità ambientale. Tantissime, migliaia e migliaia le famiglie che hanno corso e che hanno camminato con noi. Il presidente della FIDAL, Stefano Mei, che ci ha accompagnato anche qualche giorno fa nella conferenza stampa di Lancio, oggi era a Spezia, nella sua Spezia e ha corso insieme a tante atlete e tanti atleti. A Bari eravamo il sindaco, Antonio De Caro, che ha corso della Vivi Città Barese, sindaco di Bari ma anche presidente nazionale dell'Associazione dei Comuni d'Italia, poi tantissime note di colore. Un grande sforzo organizzativo, quindi un ulteriore ringraziamento anche al nostro staff nazionale. Da pochi secondi abbiamo anche le prime posizioni di quella che è la unica e grande classifica compensata nazionale. Ancora una volta è Pescara, la città più veloce. Sul gradino più alto del podio femminile sale Marika Monaldi, mentre sul gradino più alto del podio maschile sale un atleta italiano di origini del Burundi, Leonse Bukuru. Che dire, veramente grazie, grazie ancora una volta. Il popolo di Vivi Città ha dimostrato il valore dello sport sociale e per tutti. Avanti così in quella che sarà una grandissima primavera di sport veramente per tutte e per tutti.